Leonardo analisi mensile febbraio 2021 aggiorniamo anche questo titolo dei top anche questo seguitissimo sul canale abbiamo l'analisi annuale fatta a metà dicembre abbiamo qualche altra analisi sul canale che potete trovare tranquillamente andandola a cercare ve la metto comunque nel link qua in cima a metà video e in fondo vediamo che cosa è successo mi faceva piacere farvi notare alcune cose abbiamo un campo di battaglia ben delineato direi abbiamo tre aree su cui posizionarsi long abbiamo tre aree di target in estensione chiaramente importanti vediamo però che cosa sta succedendo vediamo che cosa sta succedendo perché è interessante e volevo appunto farvi notare questa cosa per farvi capire appunto come queste aree come questi livelli più che aree funzionano guardate avevamo segnato come primo target diciamo dal minimo di marzo da cui poi era partito questa candela a novembre di totale espansione dopo ancora un ritracciamento dopo che la candela di marzo aveva riassorbito fino a 6 ma poi sia aprile, maggio, giugno insomma gli altri mesi poi fondamentalmente il prezzo era tornato addirittura a rompere i minimi di marzo e poi con novembre appunto avevamo visto che era risalito notevolmente da 4 a 6,32 però vedete avevamo già visto questa a dicembre anche ma si era praticamente il prezzo fermato proprio sulla prima area di target che era il massimo venduto il massimo di maggio venduto a giugno la candela di giugno sale fino a 7,30 riassorbe, vende questo massimo e poi il prezzo comincia a scendere e vendere anche minimi ok? proprio su questo livello appunto dove evidentemente qualcuno è andato a target o altri addirittura hanno anche aperto proprio direttamente nuove posizioni short il prezzo tocca rompe di pochissimo e riassorbe fino a 6,05 guardate poi dicembre di nuovo uguale rompe 6,61 riassorbe sotto questo livello il mese di gennaio è un mese insomma più che altro abbastanza insignificante che non ci dà indicazioni particolari guardate febbraio adesso sarà poi da capire cosa deciderà di fare la candela di febbraio però tant'è apre a 5,83 scende fino a 5,72 e arriva fino a 6,27 6,28 6,29 proprio di nuovo sull'area venduta ok? e riscende poi per carità non voglio dire che queste chiaramente questi livelli debbano resistere a vita sarebbe proprio improponibile e impossibile però vedete come da 2-3 mesi questo livello continui a farla da padrone continui a dettare il target del periodo ok? e su quel livello le posizioni il prezzo viene respinto un po' per chi prende profitto un po' per chi in alcuni casi ha proprio anche trovato valido quel livello per riaprire posizioni short ecco come il prezzo appunto cosa che vi dico spesso il prezzo a memoria dei livelli in questo caso neanche appunto troppo vecchio anzi direi recente perché si parla di maggio massimo venduto di maggio da a giugno quindi che cosa ci dobbiamo aspettare abbiamo un'area di long dove invece il prezzo aveva comprato massimi del mese precedente novembre su ottobre con questa candela di espansione che abbiamo appunto visto e qui ci possiamo aspettare la stessa cosa al contrario proprio reazione a 5,26 5,27 5,24 reazione del prezzo quantomeno in prima battuta e insomma nella direzione diciamo long ok quindi chiaramente qua il prezzo aveva avuto un'espansione long e quindi sul ritesto ci aspetteremmo sicuramente una reazione in quel senso secondo livello 4,38 minimo di marzo e poi abbiamo questo minimo che era evidentemente il minimo assoluto che avevamo già anche segnato così per scrupolo ma molto distante gli altri target anche 9,10 11,54 segnati giusto per averli ma molto distanti per il momento non ci interessano quindi dobbiamo monitorare anche in questo caso la candela di febbraio siamo al 18 vediamo cosa succederà nella restante parte del mese vediamo se la candela di febbraio riuscirà a chiudere sopra e rompere definitivamente questo tetto questa resistenza in area 6,30 a quel punto diventerà questo massimo comprato e al ritesto potremo anche qui utilizzare l'area per poter andare long solo quando il prezzo chiuderà decisamente sopra e magari ritesterà dall'alto verso il basso in altro modo invece se il prezzo non dimostrerà forza sopra questo livello e il prezzo verrà ancora respinto è probabile che ci si possa ritrovare su questa prima area di 5,26 su cui ripensare una strategia ci siamo? basta volevo aggiornare questo video non tanto per aggiungere cose o cambiare perché più o meno i livelli che sono stati segnati direi che per il momento sono tutti rispettati e quindi manteniamo gli stessi non abbiamo variazioni da questo punto di vista ma mi è saltata subito all'occhio questa situazione che volevo farvi notare per appunto sottolinearvi come questi livelli che apparentemente diciamo non esistono come livelli di massimi non è che vengono sono cose che io pian piano nel tempo ho affinato studiando imparando attraverso anche corsi che ho fatto cioè come ci siano i livelli importanti semplicemente perché su quel livello è successo qualcosa questo qualcosa cosa può essere semplicemente che qualcuno in massa qualcuno una diciamo piccola massa o piccola massa di persone entrata short o entrata long quindi da quel punto di vista lì insomma seguendo questo tipo di approccio è chiaro che su quel livello probabilmente qualcuno proverà a rinforzare a difendere le proprie posizioni ecco perché su certi livelli il prezzo ha proprio questa reazione ok come appunto abbiamo visto qua e come ho voluto e ci tenevo a sottolinearvi e a farvi notare direi che per l'aggiornamento di Leonardo è tutto vi chiedo come sempre di commentare i vostri commenti sono sempre apprezzatissimi vi chiedo di avanzare richieste nel caso in cui aveste esigenze particolari su titoli che vi interessano e in ultimo non dimenticatevi mai di mettere un bel mi piace al video un gesto gratis per voi ma un gesto importantissimo per me e per il mio canale grazie a presto a presto Grazie.